Al termine della riunione con le parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita che ha avuto luogo questo pomeriggio, il Presidente del Consiglio Mario Monti e il Ministro per il Lavoro Elsa Fornero sono qui per presentarvi il risultato di questo dibattito e le prospettive future. Prego, Presidente. Grazie. Abbiamo avuto la riunione oggi con le parti sociali e più precisamente con i responsabili di CGL, CISL, UIL, UGL, Confindustria, ABI, ANIA, Rete Imprese, Alleanza Cooperativa Italiane, più il Presidente della Conferenza delle Regioni Errani, che come sapete le Regioni intendo hanno competenze importanti in materia di tematiche del lavoro. Hanno partecipato oltre a me a questa riunione per quanto riguarda il Governo, in primo luogo il Ministro del Lavoro Elsa Fornero, il Ministro Corrado Passera, il Ministro Francesco Profumo, il Vice Ministro Grilli, il Sottosegretario Cattricalà e spero di non dimenticare nessuno. Non l'ho citato profumo, credevo di sì. Comunque abbiamo, voi lo ricordate, preso l'impegno nei primi giorni della nostra attività di Governo di procedere alla riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali entro fine marzo. Il Ministro Fornero ha guidato questa operazione cruciale per dare una migliore prospettiva di competitività, di produttività, di crescita e di occupazione all'economia italiana, ammodernando anche gli strumenti di tutela e gli ammortizzatori sociali. Infatti la sua riforma si chiama la riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Ed è, devo dire, e vorrei rendere omaggio al Ministro Fornero, molto coerente come solidità e come impostazione strutturale con la riforma Fornero 1, quella delle pensioni. A partire da gennaio, sotto la guida del Ministro Fornero, con una partecipazione di vari altri Ministri, a volte con la mia presenza, si è svolta una fitta serie di riunioni con le parti sociali. Riunioni che hanno consentito di approfondire i diversi aspetti, e passerò presto la parola al Ministro, e che, vorrei sottolinearlo, hanno visto anche un percorso da parte di ciascuna delle parti sociali, dei lavoratori, dei datori di lavoro, molto rispettoso dell'attuale fase delicata, ma al tempo stesso promettente dell'economia e della società italiana. E ciascuna delle parti, anche accogliendo l'appello rivolto più volte dal Capo dello Stato, ha deciso di avere qualche rinuncia rispetto ai propri obiettivi iniziali, cercando di lavorare nell'interesse generale, proprio come le parti politiche che sostengono questo Governo fin dall'inizio hanno fatto. E la riforma è stata, e vi dico dove siamo per quanto riguarda il completamento della riforma, la riforma si articola in una serie di capitoli che ora il Ministro brevemente vi enuncerà. Quello che abbiamo fatto oggi è che il Ministro ha presentato il quadro complessivo della riforma, sintetizzando tutti i suoi capitoli, sui quali è stato acquisito il consenso di massima delle parti e sui quali capitoli il Ministro, in dialogo ulteriore con le parti sociali, lavorerà nei prossimi due giorni per affinare le formulazioni, per mettere in grado il Governo di decidere quanto prima come procedere dal punto di vista legislativo. Su un punto in particolare che non è il più importante della riforma, ma che nelle ultime settimane ha fatto oggetto di dibattiti particolarmente intensi, cioè la disciplina dei licenziamenti individuali, abbiamo voluto accertare esattamente la posizione delle parti sulla normativa che, modificando l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, il Ministro ha proposto per quanto riguarda i licenziamenti per motivi economici, i licenziamenti disciplinari e i licenziamenti discriminatori. Vi dirà adesso il Ministro in che cosa consiste la proposta con riferimento a ciascuna delle tre fattispecie e l'accertamento che abbiamo voluto condurre con scrupolo circa la posizione di ciascuna delle parti ci ha portato a concludere che tutte le parti sociali consentono all'articolo 18 nella formulazione nuova proposta dal Ministro Fornero, ad eccezione di una, la CGL, che ha manifestato una posizione negativa.